Saggio di aprile di Disney Pixar Come? Dove siamo? Questa non sembra a me una città nella giura, signor Fredrickson Non preoccuparti all'inspatendo Non preoccuparti all'inspatendo Eh lì, sono bellissime. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, lasse, possiamo volare fin là. Arrappicati, arrappicati. Vuole che le aiuti? Sì, sì, come ti pare. D'accordo, fia arrappico. D'accordo. Attento. Allora, quando arrivi lassù, devi cercare di tirare su me. Hai sentito? Sei arrivato al portico. Sì. Come? Tutto qui. Ho fatto tutta questa strada solo per restare bloccato su questa fascia di rocce. Oh, mi piacciono i cani. Qui c'è il suo cane. Chi sa di chi è questo cane? Seduto. Guardi, è albistrato. Vampa. Ahà. Parla. Come va? Perfetto. Sbaglio quel cane. Anche, ma per parlare. Sarei felice se la smettessi. Adesso non toccarlo. Potrebbe essere radioattivo. Sono un ottimo cane da fiuto. Il mio branco mi ha mandato in missione speciale tutto da solo. Avete visto un uccello? Voglio trovarne uno e stavo sequentro il suo odore. Sono un ottimo cane da fiuto, me lo dico. Ehi, è questo l'uccello. Non mi ha mai visto uno da vicino, ma mi sembra questo qui. Posso portarlo al mio accampamento come prigianiero? Sì, sì, prenditelo. E già che ci sei, imparo da bagnare come un cane vero. Io so bagnare. E anche urlare. Possiamo tenerlo? Lo prego, lo prego, lo prego. No. Ma quello è un cane che parla. È solo un trucco, chissà che. Raggiungiamo le cascate. Prego, ti prego. È così che mi sono nero. Grande, non dai fastidio a Kevin. Quell'uomo ha detto che posso portare il pescato. E io voglio bene quell'uomo come fosse il mio padrone. Non sono il tuo padrone. Ma che peggio sai? Ehi, macchina. Rascal, così non arriveremo mai alle cascate. E di qui, direi. Non sono il padrone di nessuno, capito? Non ti voglio qui. E non ci voglio nemmeno qui. Te devo sopportarti. Conto fino a te. E se altremo i due non sarete spariti. Una banda. Oh, caspita, caspita, la tua palla. Palla. Eh, sì, sì, la voglio? Oh, 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 oh. Eh, eh, sì, sì, sì. Eh, sì, la voglio. La voglio tantissimo la palla. Allora prendi la palla. Oh, caspita, caspita, caspita. La prendi da ripeto. Presto, presto, dammi del cioccolato. Perché? Da con la pasta. Venuto. Volate. Beh. Andiamo. Ehi, siamo lontani adesso. Ciao, padrone. Buon pomeriggio. Oh, bro, eccolo qui. Ho ritrovato l'odore del pennuto. Un tonnito. Oh, che cos'è questo? Cioccolato. Odore di cioccolato. Sento odore di brugna, sedia e adesivo per te dietro. Ma chi saranno questi? Il padrone non sarà contento. È meglio dirgli che qualcuno ha preso il pennuto. Giusto, Alfa? No. Molto presto e volatile sarà in nostro possesso. Trovate la pista, compadre. Sarete ben ricompensati dal padrone per gli forzi che avrete sostenuto. Ehi, Alfred. Il tuo collare ha qualcosa che non va. E' avvesse una brutta roba. Già, la tua volta è molto buffa. Sarete ben ricompensati dal padrone per la mia forza e la mia astuzia. No, no, no. Forse, sì. Forse dovresti chiederti. Chissà ti ha trovato il pennuto nella sua visione molto speciale. Non pensiunatela in mia presenza. Ma tu hai l'ultimo impreso, Terrazzario. Mi sono preoccupato. Assai occupato, il vero. Non siete d'accordo su ciò che vi aspetta? Certo, ma appena il padrone scoprirà che hai mandato Dac da solo, nessuno di noi avrà un preso. Pensando, mi ho fidato un luogo per il deck. Alfa, chiamo Adagli. Rispondi, Adagli. Ciao, Alfa. Ehi, ma che voce vuoi fare? Lo so, lo so. Hai visto il pennuto? Ma certo, perché il spegnuto deve essere sempre giugnerà. Sì, come no. Impossibile, dove sei? Sono qui con il spegnuto e ti lo porterò, ma così ti diventerò simpatico. Lo vuoi devonare. E il deck con chi stai per là? No, aspetta. Ma perché sta facendo? Perché con quel piccolo tortino? Dove si trovano? E' ancora lì. Andiamo. Spregati. Mi sto sbrigando. Arrivano. Patrone, è questa parte. Adesso non la russa, Patrone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.